E' un'Italia che sta subendo un attacco economico monetario devastante, ne dobbiamo per consacolizzare, una vera e propria guerra, è un'Italia ricchissima questa, che però attraverso un'ingegneria sociale, attraverso l'indottrinamento culturale, gli hanno fatto credere che è un'Italia povera, in realtà non è così, l'Italia come dico sempre non è collocata nel deserto del Sara, con tre pecore, quattro cammelli e un laghetto, l'Italia è un paese ricchissimo, l'Italia ha bisogno semplicemente di monetizzare tutta la ricchezza che già possiede, sia da un punto di vista storico o culturale e sia con tutto il sapere che sanno fare gli italiani che siamo bravi, il Made in Italy non a caso è diventato famoso in tutto il mondo, ma da tutti i punti di vista, quindi quest'Italia deve consapevolizzare le proprie ricchezze, gli italiani devono consapevolizzarlo e reagire, dobbiamo alzare la testa a questi usurai internazionali che ci hanno schiavizzato attraverso una moneta debito e che non ne potremo uscire, perché qua si può parlare di tutto, però se non mettiamo il dito nella piaga, la creazione della moneta, debito, non ne usciremo fuori.